. Simona Ventura smentisce la crisi con Gerò Carraro, non c'è nessuna crisi . È lo spettacolo, siamo gente di spettacolo. Sintetizziamo tutto in queste semplici parole pronunciate da Simona Ventura che, raggiunta dalle telecamere di Fanpage.Ital a Milano Fashion Week per la sfilata di Elisabetta Franchi, smentisce con forza la presunta crisi con Gerò Carraro. . Una notizia rimbalzata su tutti i magazzini del gossip, addirittura rilanciata con le opinioni degli ex, come Stefano Bettarini, ma che in realtà non ha ragion d'esistere. Simona Ventura e la presunta crisi con Gerò Carraro. Le dichiarazioni di Simona Ventura alle nostre telecamere appaiono chiare, senza alcuna interpretazione diversa possibile. . La crisi? È solo potenziale, non c'è nulla di assolutamente vero. Perché la gente inventa. Non è che inventa, siamo dello spettacolo. Finché si dicono queste cose, va bene così, insomma. Le parole di Stefano Bettarini. . Che è stato spazio anche per i commenti di Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex marito dell'Aventura, che però questa volta non è stato duro con la sua ex fiamma e madre di suo figlio, Nicolo. . Io non credo che sia vero e comunque sono affari suoi, è giusto che le gestisca come meglio ritiene la sua vita sentimentale. Il weekend di Simona e Gerò. Un weekend scaccia crisi avrebbe sancito la pace tra Simona e Gerò. . . . .